e emergenza coronavirus ancora quattro decessi positivi in calo ma sono pochi tamponi processati su 422 test effettuati scovati 25 positivi sul fronte vaccini ieri record di inoculazione in basilicata oggi al via le prenotazioni per gli over 50 e la basilicata è tornata da oggi in zona gialla regione verso la normalità con novità per gli spostamenti ma non solo riaprono a pranzo e a ceni ristoranti e si può tornare al cinema e a teatro tamponi ai turisti e per gli operatori del settore anche per quest'estate torna nelle località turistiche lucane il progetto covid free si chiama la nave sul cocuzzo il progetto che vede impegnati 47 bambini dell'istituto comprensivo milani di potenza e che ha l'obiettivo di mettere in campo azioni comunitarie di quartiere e come ogni lunedì ampio spazio allo sport in serie di vittoria fondamentale nel girone H del picerno sul campo del sorrento vittoria di prestigio anche per il lavello in casa del casarano sconfitta per 2 a 1 invece per il francavilla ad aversa nel girone I pareggio del rotonda per 1 a 1 contro l'FC messina buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv c'è l'emergenza coronavirus in primo piano nel nostro tg e lo avete sentito dai titoli sono stati registrati altri 4 decessi nelle ultime 24 ore pochissimi i tamponi processati e 24 le positività riscontrate sul fronte vaccini al via da un paio d'ore le prenotazioni per gli over 50 le prime date di somministrazione disponibili però soltanto tra un mese e mezzo facciamo il appunto con michelangelo russo come ogni domenica crolla il dato dei tamponi processati rispetto ai giorni precedenti appena 422 con le guarigioni che addirittura triplicano i casi di giornata 79 i negativizzati 24 i lucani residenti positivi intanto negli ospedali occupato ancora il 30 per cento dei posti ordinari decisamente più basso quello occupato nelle terapie intensive appena il 15 per cento 141 in tutto i ricoverati di cui 10 nei reparti di rianimazione insomma sembrano essere concreti gli effetti della campagna vaccinale ma ci sono ancora molti decessi quattro quelli inseriti nel bollettino odierno dalla task force due nel potentino a balvano come già noto da ieri sera e lago negro due anche nel materano un 65enne di scansano ionico e un cittadino di policoro salgono così a 531 le vittime provocate dal covid mentre scendono a 5.716 i casi attivi numeri più contenuti sebbene ci siano ancora otto comuni in zona rossa oggi primo giorno da zona gialla negli altri comuni ad acerenza il sindaco però alla luce dell'aumento dei casi ha chiesto a regione ed asp di eseguire uno screening di massa sulla popolazione intanto anche in basilicata da mezzogiorno sono partite le prenotazioni dei vaccini per gli over 50 sul portale gestito da poste italiane le prime date disponibili non prima della fine del mese di giugno per i fuori lista è sempre attiva la procedura di adesione attraverso il corsente il presidente bardi fa sapere anche che in questa settimana inizieranno finalmente le vaccinazioni a domicilio dei soggetti non deambulanti nel materano in attesa del vaccino ci sono anche decine e decine di pazienti over 80 e la basilicata è tornata da oggi in zona gialla regione dunque verso la normalità con novità per gli spostamenti ma non solo riaprono a pranzo e a cena i ristoranti e si può tornare al cinema e a teatro sentiamo donato carbonella dopo oltre due mesi in rosso la basilicata si avvia verso la normalità se in otto comuni lucani rimangono le restrizioni legate alla più alta fascia di rischio almeno per questa settimana nel resto della basilicata da oggi è scattata la zona gialla è consentito spostarsi liberamente ma nel rispetto del coprifuoco fissato dalle 22 alle 5 del mattino restano chiuse palestre e piscine mentre è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto riaprono cinema e teatri la capienza massima consentita è del 50 per cento e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e mille all'aperto bar e ristoranti potranno ospitare clienti a pranzo e a cena ma all'aperto un primo passo per la ripresa del settore duramente colpito dal covid secondo uno studio di conf commercio le cessazioni di attività di ristorazione sono state 184 di cui 105 nella sola provincia di potenza nonostante i soli tre giorni di preavviso dal dall'ultimo dpcm che ci ha resi gialli abbiamo cercato con molti sforzi comunque di di essere pronti di farci trovare pronti aperti per per i nostri avventuri i nostri clienti l'investimento noi l'abbiamo fatto in una visione futura perché non abbiamo mollato il periodo è stato difficile ormai sono sette sette mesi che non non si accomoda una persona a cena tranne la parentesi di febbraio e quindi siamo siamo carichi non abbiamo perso la fiducia non abbiamo perso l'entusiasmo di questo lavoro lo facciamo con amore compassione quindi non vediamo l'ora di ricominciare oggi è come il primo giorno di scuola il primo giorno di lavoro l'emozione è tanta ecco adesso siamo arrivati in in zona gialla dobbiamo rimanerci perché fare un passo indietro sarebbe sarebbe davvero davvero bruttissimo quindi abbiamo bisogno di rimanere in zona gialla magari anche migliorarci quindi è chiaro che l'appello a tutti è quello di continuare a mantenere le distanze le norme noi come regallo lavoriamo con diciamo assoluto rigore in questo nel rispetto delle norme in modo tale di stare tutti in sicurezza e continuare questo questo cammino verso la zona bianca verso la libertà assoluta e basilicata turismo covid free il titolo del progetto che la regione basilicata realizzerà la prossima estate come già avvenuto nel 2020 per garantire una vacanza tranquilla i turisti che visiteranno la regione nei mesi estivi in particolare nel parco nazionale del pollino sulla costa tirrenica su quella ionica e a matera il progetto è realizzato insieme al dipartimento salute dopo le sollecitazioni degli operatori turistici alcune unità speciali covid 19 faranno tamponi ai turisti che arriveranno in basilicata senso averlo fatto nelle 48 ore precedenti e al personale delle aziende della filiera turistica e se il governo deciderà in tal senso fa sapere la regione saranno pronte a somministrare i richiami dei vaccini ai turisti che avessero già ricevuto la prima dose e siamo alla cronaca finisce la latitanza del pregiudicato rocco barbetta che si era reso irreperibile dal 9 aprile quando raggiunto dei carabinieri per essere sottoposto alla misura di sicurezza della casa lavoro si è dato alla fuga buttandosi dalla finestra dell'abitazione di rapolla dove era agli arresti domiciliari sabato intorno alle 20 e 30 la cattura del latitante nell'androne di un edificio storico del centro di melfi barbetta già condannato per associazione di stampo mafioso nel 1990 fino al 2016 aveva espiato un lungo periodo di detenzione carceraria per un efferato omicidio commesso nel 1991 a monte scaglioso si trova agli arresti domiciliari il 38enne che ieri sera a montalbano ionico ha coltellato una donna di 77 anni l'anziana si trova ricoverata all'ospedale di policoro ma non sarebbe in pericolo di vita l'anziana si trovava in via armando miele quando è stata colpita ad un braccio per mano del 38enne pregiudicato con precedenti per stalking l'uomo che era uscito dal carcere qualche mese fa è stato bloccato dai passanti per poi finire in manette aveva con sé anche una bottiglia contenente benzina e pare che fosse sul punto di utilizzarla contro la vittima ed ora ci fermiamo per un minuto di pubblicità così l'in auto concessionario alfa romeo e jeep oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a sala consiglina e potenza assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali così l'in auto unico centro quadrifoglio verde e 4c in basilicata da così l'in auto ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da mirafiori outlet click car e select for you non andare oltre la tua auto ti aspetta qui stai invecchiando sui libri chiama c'è tutor più metodo uguale esame superato 833 1188 l'esame è un mattone chiama c'è tutor più metodo uguale esame superato 833 1188 a volte basta un gesto per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni scelte fiducia una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro e non importa di quanti capitoli sarà perché basta essere scritta con passione curando ogni dettaglio per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio con pascale arredamenti la tua comodità è in buone mani scuola test preparazione test d'ammissione a medicina e professioni sanitarie corsi personalizzati info all 800 47 00 73 e dopo la pubblicità riprendiamo il nostro tg parliamo di sanità melfi aprono le sale operatorie gli ambulatori di otorino laringoiatria e neurochirurgia le attività di chirurgia otorino laringoiatrica saranno assicurate il primo e il terzo lunedì del mese e quella ambulatoriale di otorino laringoiatria ogni lunedì mattina per quanto riguarda la neurochirurgia fa sapere il direttore generale del san carlo spera il servizio sarà assicurato lunedì 17 maggio di pomeriggio nei pomeriggi di lunedì 7 lunedì 21 giugno e poi sarà garantito a settimane alterne è importante sottolinea ancora il dg spera portare in tutti gli ospedali dell'azienda san carlo servizi e professionalità per limitare l'immigrazione sanitaria fuori regione e per migliorare l'offerta rivolta ai cittadini delle comunità locali ed extra regionali creando dei centri di riferimento un incendio ha distrutto ieri sera a moliterno l'ex discoteca movida ad allertare i vigili del fuoco sono stati degli automobilisti indagano i carabinieri che al momento non escludono nessuna pista nella giornata di domani alle 12 in prefettura potenza si riunirà il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sarà sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato alla prevenzione degli illeciti al contrasto ai reati informatici ai danni delle banche e della clientela attraverso la collaborazione lo scambio di informazioni tra istituti di credito e le forze dell'ordine. Il documento prevede anche la destinazione di nuove risorse economiche alle banche destinate all'adeguamento dei sistemi di sicurezza e programmi di educazione rivolte agli utenti per la prevenzione delle truffe. Possibili disagi su treni e autobus delle ferrovie Appulo-Lucane mercoledì 12 maggio a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore del settore trasporto pubblico locale al quale ha aderito anche l'USB di Puglia e Basilicata. In Basilicata il personale di esercizio sciopererà dalle 16.15 alle 20.15 mentre il personale degli impianti fissi si asserà dal lavoro nelle ultime 4 ore di servizio. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia. Si chiama la nave sul Cocuzzo, il progetto che vede impegnati 47 bambini dell'istituto comprensivo Milani di Potenza e che ha l'obiettivo di mettere in campo azioni comunitarie di quartiere. Ce ne parla Isabella D'Andrea. Ciao, sono Giulia. Ciao, io sono Pietro. Sono Noemi. Sono Michele. Sono Antonio. Sono Liana e mi piace la nave del Cocuzzo. Perché? Perché? Perché la fantasia è di tutti. Ognuno di noi è dotato di fantasia. Un viaggio corale alla scoperta dello straordinario nell'ordinario per disegnare insieme il futuro attraverso una storia in continuo divenire che nella sua contaminazione tra reale e multimediale formi gli adulti di domani, aprendoli alla partecipazione attiva alla vita sociale, tra condivisione, solidarietà e cura dei beni comuni. Il progetto La Nave sul Cocuzzo, finanziato dal bando miur povertà educativa e finalista del premio Scuola Digitale 2021, che vede come capofila all'istituto comprensivo Milani di Potenza, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. A muovere La Nave, la voglia di mettere in campo azioni a supporto dell'attività didattica ed educativa a seguito dell'emergenza Covid-19. Realizzato grazie ad un ampio partenariato, coinvolge 47 alunni e numerosi docenti ed esperti, in un grande laboratorio partecipativo, digitale, teatrale. Ogni giovedì a scuola si è svolta una raccolta di storie che ha dato vita ad un racconto che, grazie al digitale, ha iniziato a vivere in altri mondi. La Nave viaggia in un percorso aperto a più generazioni, bambini, docenti, famiglie e comunità. In programma lo sviluppo di azioni comunitarie di quartiere, ma anche esperienze di scrittura collettiva e coproduzione di beni comuni digitali. Il progetto vede già l'adesione di numerose associazioni. Chiunque può aderire iscrivendosi a community.lanavesulcocuzzo.org. E oggi volevo dire che per me il progetto Cucuzzo è una casa molto seria, molto importante. Vorrei tornare bambino come voi, per stare nella vostra scuola. Perché serve per noi, per il nostro futuro, per il nostro sapere, ma serve specialmente per migliorare il nostro rione. E ricordiamoci una cosa, che la fantasia per produrre una cosa piccolissima, piccolissima, a volte ci impiega giorni. Per fare una cosa enorme, a volte ci impiega un attimo. E siamo allo sport, fari puntati sulla Serie D. Nel girone H volano Picerno e Lavello, mentre Francavilla segna il passo nello scontro salvezza con la Real Aversa. Ma è il K.O. interno del Taranto a riaprire completamente il campionato. Vediamo il quadro completo della 29esima giornata. a seguire i servizi su Sorrento-Picerno, Casarano-Lavello e Real Aversa-Francavilla. I risultati della 29esima giornata del girone H di Serie D. Brindisi-Cerignola rinviata, Fasano-Altamura 3-2, Casarano-Lavello 2-3, Gravina-Molfetta 2-0, Nardò-Andrea 1-1, Putolana-Bitonto 1-0, Real Aversa-Francavilla 2-1, Sorrento-Picerno 0-1, Taranto-Portici 2-3. Questa è la classifica. Taranto in testa con 56 punti, segue il Picerno a 52, Lavello 49, Andrea e Casarano 48, Bitonto 45, Nardò 44, Altamura 43, Molfetta 41, Cerignola 40, Sorrento 35, Fasano 34, Real Aversa 30, Gravina e Francavilla 28, Brindisi e Portici 25, chiude la Putolana a 24. Tre punti per allungare a 5 la striscia di vittorie consecutive, un successo per riaprire completamente il campionato. Sorrento porta bene al Picerno e dopo la vittoria di due anni fa che spianò la strada verso la conquista della Serie C, arriva un'altra impresa cruciale per il Rosso-Blu, che sommata alla clamorosa debacle interna del Taranto riporta i Melandrini ad un passo dalla vetta. Il Sorrento inizia con questo calcio di punizione di San Domenico che non crea problemi a Giuliani. Il Picerno risponde con Albadoro, sterzata improvvisa e conclusione dal vertice dell'area, troppo centrale. I costieri cercano di sfondare sulle fasce, ma Sullo va via a sinistra, tracciante per Cassata che fallisce il diagonale di prima intenzione. Esposito rompe gli indugi, dribbling secco sulla tre quarti e tiro a giro che si stampa sul palo. Sul proseguo dell'azione tocco di mano in area di Cacace, calcio di rigore. Esposito dal dischetto non fallisce, scarano da una parte e palla in fondo al sacco. Il Sorrento reagisce, la punizione di San Domenico è perfetta, ma si spegne sul palo a Giuliani battuto. Nella ripresa il Picerno prende decisamente in mano le redini dell'incontro. Esposito verticalizza per Coné, che fa da pivò al limite dell'area, sventola di Albadoro che si spegne a lato. Ancora Picerno, cross di Coné, torsione di Albadoro, fuori misura. I padroni di casa si rifanno vivi, Liccardi difende il pallone dalla marcatura di Allegretto, ma la girata non è granché. Finale con brivido, sul colpo di testa di San Domenico, guerra salva sulla linea, poi Giuliani si impossessa di un pallone che vale oro. Si arriva alla fine della partita che proietta il Picerno a soli quattro punti dalla capolista Taranto, con una partita da recuperare. Il Picerno ora ci crede davvero. Una capocciata di Bomber Bursio regala una vittoria prestigiosa a Lavello che passa per 3-2 al Capozza contro il Casarano, infliggendo ai Salentini la terza sconfitta di fila e tornando al successo dopo tre pareggi. Tre punti che rilanciano le ambizioni playoff dei gialloverdi di Mr. Zeman. Parte meglio la formazione di Orlandi con il tentativo del Lucano Sansone che però calcia oltre la traversa. Al nonno ci prova Rodriguez con una bella girata al volo che si perde sul fondo. Un minuto dopo, lo stesso Rodriguez fallisce così una clamorosa occasione con una capocciata che non c'entra allo specchio della porta. La prima occasione per il Lavello al 45esimo con un Bursio che però di testa spedisce sul fondo e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Feola ci prova col destro. Palla di poco al lato. Quattordicesimo Sansone viene atterrato in area e l'arbitro concede il calcio di rigore che Rodriguez non sbaglia e porta il Casarano in vantaggio. Al sedicesimo Mincica serve Giacomarro sul quale è provvidenziale Carretta che evita la seconda capitolazione. Un minuto più tardi il Lavello impatta con la precisa incornata di Longo che supera Pitarresi. Al ventunesimo il Lavello trova il gol del vantaggio con Bursio che corregge in fondo al sacco un assist al bacio di Liurni. Al ventotesimo una perla della bellese Sansone su calcio piazzato supera Carretta e rimette di nuovo in parità il match 2-2. Trentunesimo Militano ci prova con un tiro a giro che Pitarresi riesce a controllare senza particolari problemi. Al trentasettesimo il Casarano si rende pericoloso con Santoro la cui girata viene disinnescata da Carretta. Quando il match sembra destinato a finire in parità ecco che una pennellata di Herrera trova la testa di Bursio che da bomber di razza la manda alle spalle di Pitarresi regalando così tre punti preziosi e pesanti alla formazione di Mister Zeman che supera lo stesso Casarano e l'Andria e si porta a terzo posto alle spalle di Taranto e Picerno. Il Francavilla lascia altri punti per strada nella corsa alla salvezza diretta perdendo al Bisceglia contro la Real Aversa per 2-1 un KO che complica la rincorsa della formazione di Mister Lasic. Prima occasione del match con Leonetti che servito da Nolè calcia però di poco a lato. Poco dopo ancora assist di Nolè da corner capocciata di Leonetti Papa si salva in due tempi. Aversa pericoloso con il cross di Ndiaie Negro sfiora di Ronzank e palla che poi sbatte contro il palo. Ziello dalla bandierina Cefariello si salva con l'aiuto della traversa poi Faella coglie un altro palo nel tentativo di Tappin. Al 33esimo Ziello porta in vantaggio la Real Aversa con una parabola imprendibile per Cefariello. Nel finale di tempo ancora Ziello mette sul secondo palo una palla sulla quale arriva Varchetta che centra in pieno il palo esterno. Nella ripresa Beldestro di Nolè insidioso palla di poco a lato ancora Nolè pericoloso di testa su corner di Galdean sfera che sfiora il montante. Allo dodicesimo la Versa trova il raddoppio Ndiaie lanciato a 2x2 con Cefariello che providenziale in uscita ma lo stesso Ndiaie riconquista la palla serve sul secondo palo Faella che con un pregevole tira a giro questa volta batte lo stesso Cefariello che nulla può 2 a 0. A 10 minuti dalla fine del match Leonetti con una zuccata sul corner di Nolè sembra rimettere in gioco il Francavilla con il gol del 2 a 1 il finale è tutto di marca sinica che però non riesce a trovare il gol del pareggio rosso-blu che sprecano un'altra occasione per portare a casa punti in chiave salvezza e nel girone il rotonda sfiora la clamorosa impresa contro il Messina FC che raggiunge il pari in pieno recupero il vantaggio di Ferrera dopo 7 minuti illude i biancoverdi nel finale traversa di Boscaglia che sfiora il raddoppio poi il pareggio Beffardo di Agnelli per l'1 a 1 che segna anche il debutto in panchina di Mister Pepe vediamo risultati e classifica del girone I con le nostre schermate i risultati della ventottesima giornata del girone I di Serie D Acireale Castrovillari 2 a 2 Biancavilla Paternò 0 a 1 Cittanovese Roccella 2 a 1 Licata Gelbison 2 a 2 Ragusa Dattilo rinviata Messina Santa Maria Cilento 0 a 0 Rende Troina 1 a 0 Rotonda FC Messina 1 a 1 Sant'Agata San Luca 0 a 0 questa la classifica Messina in testa con 60 punti segue l'FC Messina 56 Gerbison 54 San Luca 48 Acireale 45 Rotonda e Dattilo 39 Biancavilla 38 Licata 36 Santa Maria Cilento e Paternò 34 Cittanovese 33 Troina e Castrovilla di 31 Rende 30 Sant'Agata 29 Ragusa 23 Chiude il Roccella a 15 Ed è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.